che adesso vanno agli ordini dello starter e allora vediamo il campo dei partenti dopo il ritiro del numero 3 di Empire di Pioggia con l'uno Ercole Store, Vardel Martellini, due episodi oggetti, Dario Battistini, quattro del Cana S, Roberto Vecchione, cinque per Rosario e Gabriele Guarnetti sei ad un dipoggio Carimberri, sette Epico dell'Este, Marcello Di Nicola, questa è la prima fila seconda fila, otto Exotic Febbi, Guido Carpentieri, nove Egoist, Giuseppe De Filippi 10 Edit Stecca, Roberto Dorici, 11 Exclusive Pol, Antonio Di Nardo rimane molto attordato Exotic Febbi, parte piano Edit Stecca in partenza cerca di emergere Everrose R che si porta al comando nei confronti di Edwin Di Poggio che ha all'esterno Epico dell'Est che ora cerca di sistemarsi in terza posizione lo può fare sull'errore di Ercole Store e allora quarto in corda c'è il numero 2 di Episodio Jet a precedere Egoist Elkan S all'esterno che è stato cauto in avvio Edit Stecca, Exclusive Pol che prende la CIA di Elkan S e poi più indietro Exotic Febbi sullo slancio impone ritmo sostenuto Everrose R poco gestibile da parte di Gabriele Guarnetti i 600 iniziali io ce li ho addirittura in 42,7 e infatti vedete che le posizioni sono ben delineate e c'è intervallo tra i primi con Everrose R che ora completa il mezzo miglio iniziale in 58,4 riaccostata in questo momento da Edwin Di Poggio che precede sempre Epico dell'Est Episodio Jet Elkan S all'esterno poi Egoist e Exclusive Pol a completare il gruppo dei Superstiti adesso c'è un netto rallentamento ha spostato Epico dell'Est che cerca di andare subito a togliere il comando Everrose R che sembra aver esaurito il suo slancio e allora Epico dell'Est è in testa nei confronti di Edwin Di Poggio Erkan S che insiste all'esterno seguito sempre da Episodio Jet e Exclusive Pol in coppia ora Epico dell'Est che allunga e prende vantaggio da Elkan S che sopravanza Edwin Di Poggio altrettanto fa Exclusive Pol nei confronti di Episodio Jet ma Epico dell'Est sta per affrontare in chiaro vantaggio anche la curva finale e soprattutto completa il miglio in 1,59,6 in seguito da Elkan S Exclusive Pol l'errore di Elkan S sul finire dell'ultima curva e allora l'inseguimento di Epico dell'Est rimane solo Exclusive Pol più indietro Episodio Jet che attacca Edwin Di Poggio Epico dell'Est è ancora in chiara evidenza e Exclusive Pol accorcia ma è netto il vantaggio di Epico dell'Est al paletto dei cento finali e Exclusive Pol può soltanto parzialmente vedere diminuire lo svantaggio ma vince nettissimo Epico dell'Est con Marcello Di Nicola da Antia Exclusive Pol per il terzo posto emerge Episodio Jet e allora 7,11,2 è l'arrivo ufficioso della prima di Capannelle parziali al contrario primi 800-900 metri velocissimi secondo chilometro decisamente più in letto ma comunque 2,30,5 sul mio cronometro per la vittoria di Epico dell'Est Marcello Di Nicola alla guida al training per il signor Vivaldo e Stratti per il figlio di Esplacaff e Terra dell'Est che dovrebbe essersi espresso intorno all'1,15,1 1,15,2 per vincere nettamente su Exclusive Pol e poi molto più indietro al terzo posto dovrebbe esserci il 2 di Episodio Jet riepilogando 7,11,2 l'arrivo ufficioso della prima di Capannelle la linea che può tornare allo studio grazie grazie